...proseguire il cammino in società tra il tecnico campano e la dirigenza rosso-azzurra. Questo ha portato alle dimissioni, al richiamo di nuovo in prima squadra di Maurizio Pellegrino che ha guidato il Catania sino alla trasferta di Perugia, gara persa per 1-0 dalla Catania. Quella sera stesso scattò poi le zona di Pellegrino che adesso viene richiamato di nuovo a guidare il club, la squadra del presidente Pulvirenti, uomo della società, un uomo aziendalista richiamato per portare sino alla fine del girone d'andato la squadra in un porto sicuro, poi con l'arrivo di gennaio si vedrà evidentemente, verranno tirate le somme, si cercherà di capire se Pellegrino potrà continuare o altrimenti si guarderà altrove, tanti sono i nomi circolati in settimana per la sostituzione di Sannino, adesso gli stessi nomi tornano per un eventuale arrivo qui ai piedi dell'Etna proprio per rimpiazzare sempre Pellegrino. Si parla di Liverani, si parla di Cersei Cosmi, si è parlato anche di Marco Lin che è stato qui a Catania secondo di Mihailovic, insomma il ventaglio di nomi potrebbe anche essere allargato ad altri protagonisti. Il sogno del Presidente si chiama Walter Zenga ma ci risulta che stia aspettando una chiamata con ogni probabilità dalla Serie A. Insomma, su questa vicenda avremo modo e occasione certamente di tornare anche nel corso degli altri telegiornali e poi nel corso già stasera alle 21.10 con il telegiornale sportivo con Umberto Teghini, ne sapremo di più. Ma veniamo alla sfida di oggi, una partita tra due squadre che stanno decisamente male, entrambe arrivano a questa gara con l'esonero dell'allenatore, con le dimissioni dell'allenatore nello specifico per il Catania. A Brescia è stato richiamato a sostituire Iaconi, il tecnico della rappresentativa primavera, parliamo di Jarvovic, mentre invece a Catania, come detto, è arrivato Pellegrino. Come giocheranno queste squadre oggi? Con grande paura certamente, non si può sbagliare, è vietato quasi sbagliare, è partita la ultima spiaggia o quasi, anche se poi ci sarà un intero girone di ritorno per poter recuperare. Tre le partite a disposizione di Pellegrino per dire io ci sono, fidatevi di me. Si comincia oggi con il Brescia, poi si andrà a Padova contro il Cittadella, si rientrerà a Catania, esattamente all'ultima domenica dell'anno, con la sfida alla capolista Carpi. Questo è il programma delle prossime tre settimane. Veniamo adesso invece alle formazioni. Il Catania si schiererà, con ogni probabilità, non sono certamente ufficiali ancora le formazioni, con un 4-3-3, tanto caro allo stesso Maurizio Pellegrino. In porta ci sarà ovviamente Frison, tante sono le rinunce. Gessauro e Parisi giocheranno sugli esterni, poi Spolle e Rinaudo, quest'ultimo certamente in una posizione decisamente inedita per lui, fare la centrale difensivo in mezzo al campo con Escalante, anche Olscher e Krapek, il Tridente. Qui ci potrebbe essere la novità, non dovrebbe partire dal primo minuto Cian e al suo posto Marselinho, il reparto sarà completato da Leto e Calaio. Questo per quanto riguarda il Catania. Vediamo adesso invece al Brescia, come detto arriva qui in città con una serie di defezioni, ovviamente anche il Catania ha tantissimi assenti. Nel Brescia non ci sono Budel, Zampelli, Ruben, Oliveira e poi ancora Bertoli. Quindi giocherà con un 4-2-3-1, questo Arcari in porta. Poi Sesto e Scaglia saranno i due esterni, Caracciolo e Di Cesare invece in mediana. Antonio Caracciolo completerà il reparto difensivo con Di Cesare in mediana, con Maidat, Benali, poi Bentivoglio, Corvia, Morosini e ci sarà lì davanti Caracciolo. Questo l'undici che immaginiamo per il Brescia. Ripeto, ha ormai meno di un'ora dall'inizio di questa sfida tra il Catania e il Brescia. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo qualche anno, perché l'ultima volta giocarono, almeno il Catania affrontò il Brescia in Serie A. In quella circostanza si impose per 1-0 con la rete di Maxi Lopez. In Serie B invece le due squadre si sono ritrovate l'una di fronte all'altra nel 2005-2006. Finì 2-1 con le reti. Per quanto riguarda ovviamente il Catania, De Zerbi e Del Core, poi Bruno segnò per le rondinelle. Questo è lo score, questa è la situazione al Massimino, con un'ultima inquadratura, se ce la può regalare ancora una volta Giuseppe Messina, di quella che è la situazione in Piazza Spedine. Situazione assolutamente calma, ripeto, non ci sono difficoltà, non c'è grandissima affluenza, ma ripetiamo, al momento manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio di questa sfida delicatissima per il campionato di Serie B con il Catania, chiamato assolutamente a vincere, ma in una domenica assolutamente quasi, diciamo, irreale con i tifosi della Curva Nord che, ripeto, confermano, non entreranno al Massimino, staranno fuori, con ogni probabilità inciteranno la squadra, forse ci saranno dei cori contro la società. È tutto, se non ci sono domande dallo studio, qui dal piazzale di Piazza Spedini, davanti proprio allo stadio Angelo Massimino, restituisco la linea allo studio.